Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per i video problemi. Nella posizione che state vedendo muove il bianco e vince. Se trovate la risoluzione del problema scrivetela qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre per i video problemi, con Mario Santagati e Chesslogger. Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!